La Giunta Comunale ha deliberato un aumento della tassa di soggiorno del 50%. La notizia era già nell'aria prima della comunicazione ufficiale. Le associazioni turistiche, chiamate a un confronto, avevano cercato di limitare l'aumento a un 20%, tra queste l'Associazione Albergatori di Giuliano Boscolo. La tassa di soggiorno non aveva subito alcun aumento dal 2013 e l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno modificarla mettendola più o meno in linea con le tasse di soggiorno applicate da altre località venete. Nonostante ciò, gli operatori del settore, pur riconoscendo la tassa in linea con le altre località, si sentono messi in difficoltà per questo incremento sostanzioso, difficile da giustificare alla clientela per la quale sarebbe più digeribile la stessa percentuale spalmata in un periodo più lungo. Ora ci si aspetta da parte del settore che gli importi che giungeranno da questa tassa vengano adeguatamente investiti per promuovere la località e renderla più appetibile, essendo il turismo uno dei settori trainanti e dell'economia locale. Grazie per la visione!